Ciao e bentornato sul canale. Oggi parleremo di slipping, uno strumento di montaggio che lavora sulla clip e non sui tagli. Vedremo che è uno strumento utilissimo per affinare il tuo montaggio. Prima di cominciare ti ricordo di cliccare sul pulsante iscriviti e sulla campanella a fianco per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Quindi slipping sulla cat page. Lo strumento di montaggio che vediamo oggi lavora sulla clip e non sul taglio. Cioè il focus del mio intervento sarà unicamente il contenuto della clip. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutti i tagli che sono già presenti in timeline non saranno influenzati da questo intervento. Lo strumento si chiama slipping e cosa fa in dettaglio? Ti permette di cambiare la selezione attacco e stacco di una clip senza variare la sua durata e senza modificarne la posizione all'interno della timeline. Quindi io posso fare lo slip, ossia spostare il mio intervallo all'interno del materiale disponibile sul mio girato. Questo è l'intervento assolutamente meno invasivo di tutti quelli che abbiamo visto perché nessun taglio verrà modificato. Vediamo come si fa in pratica. Parto dalla mia solita timeline e supponiamo di voler modificare l'intervallo di selezione di questa clip. Ossia questi tagli rimangono invariati e nella stessa posizione quello che cambia è il contenuto della clip. Quindi posso spostare il marchine mark out più a destra oppure le marchine mark out più a sinistra. Lo slipping può essere realizzato unicamente nella timeline inferiore, quella zoomata. Non si può fare lo slipping sulla timeline superiore. Ma dove si trova lo strumento di slipping? Bene, una volta che io sono all'interno della clip compare questo cursore al centro della clip. Questo cursore rappresenta appunto il cursore per effettuare lo slipping. Quindi io ci clicco sopra e comincio ad esempio a trascinarlo verso destra e anche qua il viewer si trasforma. Allora in questo caso chiaramente non compaiono più i tagli perché come ti ho detto prima lo slipping non lavora sul taglio ma lavora sulla clip. In alto io vedo la mia clip interessata, quella su cui sto facendo lo slipping. Quindi il frame di sinistra in alto rappresenta il primo frame attuale visibile in timeline, quella di destra è l'ultimo frame attualmente visibile in timeline. La parte inferiore che rimarrà invariata rappresenta l'ultimo frame della clip precedente e il primo frame della clip successiva a quella interessata. Perché dico che rimane invariata? Perché il taglio non si sposterà e quindi la posizione di quella clip sia la precedente che quella successiva rimarrà sempre la stessa e la selezione sarà identica e quindi il frame sarà sempre quello. Quello che cambierà sarà il primo frame cioè il punto di mark in e il punto di mark out cioè il frame finale della clip superiore ossia quella interessata allo slipping. Proviamo a spostarci, mi sposto verso destra e vedete che cambia il mark in e mark out della clip. Se io vado a vedere in timeline noto anche una risolta di rettangolo bordato in bianco, quello rappresenta le mie maniglie oltre il quale non posso andare per fare lo slipping perché non ho più materiale disponibile per farlo. Questo strumento è utilissimo perché ti può permettere di migliorare notevolmente l'impatto visivo dei tagli sulla clip interessata allo slipping. Mi rendo conto guardando il viewer come funziona il passaggio dalla clip precedente alla clip interessata guardando i due semi quadri a sinistra e come funziona il passaggio tra la clip interessata e quella di destra guardando i due semi quadri a destra del viewer. Anche in questo caso come abbiamo visto nel tutorial sul rolling trim è indispensabile avere delle grosse maniglie ai lati delle clip perché altrimenti non riesco a fare l'operazione di slipping. Avrei pochissimo spazio per poter gestire lo slip della clip. Ora lascio il mouse e automaticamente il mio slipping è effettuato, i tagli rimangono invariati, quello che cambia è il contenuto della mia clip. Quindi ancora una volta una raccomandazione, un buon montaggio parte da una selezione corretta delle clip da importare in timeline. Settate bene i marchini mark out tenendovi ampie maniglie ai lati. In questo modo avrete sempre la possibilità di poter lavorare localmente per poter correggere eventuali problemi di montaggio. Se hai delle domande in merito allo slipping ti invito a farle nei commenti di questo video e noi ci vediamo domani per un altro tutorial. Grazie a tutti.